www.mesmerism.info Ok, ovviamente, vieni qui. Ok, io faccio un lavoro con lei, ok? Io la metterò con un piccolo band, io la metterò con lei, ok? Si, io la metterò con lei, ok? Ok, io la metterò con lei, ok? Ok, io la metterò con lei, ok? Non la metterò con lei, ok? Perché altrimenti non è libera di riuscire l'altra parte. Ok? Per la scon sensitive e color... ...che ecco, capire il veraggio con lei, ok? Ok, wow... ...I con una parola... ...Itsuth delarico con lei. Ecco, so' un' alparbi somebody... ...miangeria della scon tale a altri orbiting lesi... Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è un corso gratuito Il nostro corso gratuito è un corso gratuito Il nostro corso gratuito è un corso gratuito Grazie a tutti